Salve, salve da Marco Calabro, per congiungere a Siviglia, siamo in Spagna. E quello che stiamo vedendo è la piazza Spagna di Siviglia, la plazza Spagna. Sicuramente è vero, è una delle piazze, stiamo facendo solamente uno scorso adesso per renderci conto, sicuramente è una delle piazze più belle d'Europa, senza ombra di dubbio. Poi ha dei canali dove ci stanno le barche, le possiamo vedere là in fondo, sicuramente è un luogo incantevole. Poi invece meglio faccio un video sulla piazza con degli approfondimenti. Grazie.